Autoblindo nemico localizzato! Presto! Uno dei loro soldati! Laggiù! Quello è un crucco! Ehi! Vedo il ritorno nemico! Oh Ricognitore! We have lost Objective Dove. We have lost Objective Butter. We have taken Objective Dove. We have lost 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 Objective Dove. Un Assaltatore Nemico! Ne ho trovato uno! Ehi! Vedo un Assaltatore! Assaltatore Nemico! Facciamo attenzione! Uff. We are losing Objective Butter. Le pune di 되어 cardiaco. Un Suspect è xx.. Vi riusoviare su cuttings. Tornare dai culo! Ci vo käytano! Ecco sono critici perchè occuει un Assaltatore nemico. Oh! We have lost Objective Edward. We have lost Objective! Ah! C'è un ricognutore! We have taken Objective Butter. We have taken Objective Edward. We have lost Objective Apples. We have lost Objective! 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 C'è un assaltatore! Raggiù! Un assaltatore nemico! Un assaltatore! Un assaltatore! Un assaltatore! Acciò! Una vittaglia di attrice nemica! Da! Cosa mia! Ascoltatore localizzato! Questa granata è tutta per loro! Datemi delle munizioni! Ho bisogno di munizioni! Abbiamo perduto l'obiettivo, Charlie. Abbiamo perduto l'obiettivo, così non fare gli altri. Lasciamo! Quello è un medico, giusto? Oh! Abbiamo perduto l'obiettivo, Charlie. Abbiamo avuto l'obiettivo, Charlie. Non ci dare un vero! Difendiamolo! Abbiamo preso l'obiettivo. Abbiamo perduto l'obiettivo! Abbiamo perduto l'obiettivo. Abbiamo perduto l'obiettivo. Quella è una mitragliettrice nemica! Mitragliettrice! È una delle loro! Anche di carattacolo eh! Visto? Un assaltatore! We have lost Objective Duff. Lancio una bomba in mano! We have taken Objective Butter. Uniconditore nemico! Nemico a cavallo in Vista! Aereo nemico, attenzione! Cavalleria nemica localizzata. Siamo perdendo l'objeto. Enrico, ha preso l'objeto. Dobbiamo riprendercelo. Siamo perdendo l'objeto. Siamo perdendo l'objeto. Siamo perdendo l'objeto. Siamo perdendo l'objeto. Attenzione, attenzione, soldato nemico! Siamo perdendo l'objeto. Quel ricognitore è uno dei loro. Abbiamo l'obiettivo, come! Una granata a pelle! Un ricognitore! Listo! Vedo un ricognitore nemico! Ho localizzato un ricognitore! Attenzione! C'è un ricognitore! еру in Heaven! We have lost Objective Butter. We have lost Objective Apple. Vedo un assaltatore nemico! Cheat, cheat, cheat! AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Grazie a tutti 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 Grazie a tutti